perché non sparano ora siamo lontani però e non da mi sto mettendo il raggio ai vedi che ce l'hanno il raggio ma no che non ce l'hanno il raggio si è detto che glielo mette glielo metti fisicamente sull'omino sì sì sull'omino si che sparano loro appena sono fire a twill sul cannone non sull'omino si è dove c'è questo ci ha lisciato questa no l'abbiamo danneggiata bene però bisogna ralentarla fermati un po simona facciamola arrivare andiamo solo con la handling ok ho chiuso tutto io lascio solo la handling aperta occhio che arrivano chi è che l'ha colpita in pieno apri un po ok salvatore va giù chiudi 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 scuola facciamo tanto tempo troppo apri appena appena dai ragazzi che se ne mangiamo aia ma fondando ma sono stato giocato per il palazzo steunine steunine s aprire aprire un po' che stiamo andando giù guardate è andata guardate ragazzi che siamo pieni di danni eh no no sto riparando è andata dai dai è andata bene è andata bene beh l'azio ok ma incontriamo il bottino non è la prima e la seconda attenzione attenzione spavate il fuoco greco se potete eh no si no perché è per quella piccolina apri un po' guarda un po' simona che siamo troppo lenti ci stanno abbattendo chi è andato in acqua? è preso il piede l'acqua ma è in più veloce simo ci stanno abbattendo no è mancato chiudi troppo lontano non ci arrivo più ma se te che cannoneggi ogni tanto per toni mini no è l'alumino sul su quello lungo sul quello grosso ogni tanto e mi riesce a arriva a portata questo sono io invece che non so perché io cannoneggio gli altri non sto pigiando tutto davvero eh questo dovrebbe essere andato giù anche noi siamo messi male mi sa eh se qualcuno può andare sotto c'è il mertello da usare sto cercando di evitarlo ci siamo quasi però per vedere che ce n'è ok non è andata per vedere ce l'altra dietro